70.000 ragazzi invaderanno le strade di Palermo il prossimo 23 maggio per partecipare a Palermo Chiama Italia e l'Italia risponde. Le manifestazioni in ricordo delle vittime e delle strage di Capace e Via D'Amelio. Le iniziative nel nome dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Palo Borsellino e degli agenti della scorta sono state illustrate al MIUR alla presenza del Ministro Valeria Fedeli, del Capo della Polizia Franco Gabrielli, della Presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, della Presidente dell'Associazione Quarto Savona 15 Tina Montinaro, moglie di Antonio, agente di scorta del giudice Giovanni Falcone. Anche quest'anno ci sarà il consueto viaggio della nave della legalità che porterà in città centinaia di studenti dalle altre regioni italiane. I ragazzi si sposteranno nell'aula bunker del carcere uciardone per la tradizionale cerimonia. Ma non è tutto perché quest'anno la manifestazione sarà anticipata dal concorso per le scuole in collaborazione con la polizia dal titolo Angeli Custodi, l'esempio del coraggio, il valore della memoria, dedicato al sacrificio degli eroici agenti morti nell'adempimento del proprio dovere. Il premio per gli studenti vincitori sarà un viaggio negli Stati Uniti a Quantico nella sede dell'FBI dove nel 1994 è stata eretta una statua in ricordo di Falcone. Le vicende della vita portano ad essere protagonisti inconsapevoli, invece il valore straordinario di questi uomini e di queste donne, gli agenti di scorta dei giudici Falcone e Borsellino, ha detto Gabrielli, è che tutti avevano la consapevolezza di andare incontro alla morte, sapevano di essere obiettivi e nonostante questo hanno continuato a compiere il loro dovere e credo che questo sia l'insegnamento più vero e più profondo e il testimone che loro ci lasciano in un momento nel quale a volte è più facile non fare, è più facile il disimpegno, è più facile delegare. Sono sempre stata orgogliosa e lo sono ancora oggi di essere la moglie di Antonio Montinaro, se siamo tutti uniti la battaglia contro la mafia la possiamo vincere, ha sottolineato Tina Montinaro.